Ciao e benvenuti a tutti su Serie TV Spoiler. Oggi parleremo dell'amatissimo Fekeli, che rappresenta appunto il personaggio di Fekeli in Terra Amara. Ma chi è Fekeli nella vita reale? Fekeli si chiama nella vita reale Kerem Ali Zik ed è un attore turco che ha interpretato il ruolo di Ali Rahmet Fekeli appunto nella serie di successo Terra Amara, diventando così uno degli artisti più acclamati del momento, non solo nel suo paese natale, cioè la Turchia, ma anche in oltre 30 paesi in cui la serie è stata trasmessa. La trama della serie ambientata negli anni 70 racconta, come sappiamo bene, di una storia d'amore, tradimenti, misteri e intrighi, nella terra di Cukurova. In questo video si parlerà di Kerem, del suo percorso artistico e delle sue passioni. Ma prima di iniziare con la visione del video vi ricordo di mettere un bel mi piace e di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità. Kerem è nato il 5 giugno del 1960 a Istanbul, dove è cresciuto in una famiglia di artisti. I suoi genitori erano dei famosissimi attori turchi, e cioè Sadri Ali Zik, uno dei giganti del cinema turco, e la bellissima attrice Kolpan Hilan. In un'intervista Kerem ha affermato che essere figlio di famosi attori ha sia dei vantaggi che degli svantaggi. Infatti il pubblico tende a paragonarlo ai suoi genitori, quindi deve fare il doppio dello sforzo per dimostrare la sua identità. Ma la passione per l'arte non è da attribuire solamente ai suoi genitori, infatti Kerem è anche il nipote del poeta Attila Hilan, uno dei più grandi maestri poeti della letteratura turca. Quindi, essendo cresciuto in una famiglia così piena d'arte, non sorprende che da giovane Kerem abbia sviluppato tre grandi passioni, cioè la poesia, il calcio e la recitazione. La poesia infatti è stata la sua prima passione, Kerem ha iniziato a scrivere da giovanissimo, anzi da piccolo. Ha iniziato a scrivere poesie quando frequentava la scuola elementare dedicate alla madre. Poi, alla giovanità di 5 anni, addirittura ha iniziato la sua carriera di attore nel film Kokamin Nisa Linzi, dove i suoi genitori erano i protagonisti. Anni dopo ha scoperto un'altra passione, cioè lo sport, in particolare il calcio. Ha giocato professionalmente dopo il diploma di scuola superiore. Nel 1979-1980 ha giocato nella squadra di Istanbul ed è stato uno dei migliori giovani giocatori turchi e ha mostrato le sue abilità diventando uno dei quattro migliori giocatori del primo campionato amatoriale di Istanbul. Ma purtroppo la sua carriera finì lì, perché un infortunio prematuro lo ha portato via dai campi da calcio per sempre. Anche se alcuni pensano che si potesse fare un po' di più per curare maggiormente il suo infortunio e farlo continuare nella sua carriera. Kerem però ha preferito dedicarsi ad un'altra delle sue passioni e cioè la recitazione. La passione per la recitazione discorreva nelle vene e lo portò a dedicarsi al mondo dello spettacolo. Nel 1996, un anno dopo cioè la morte di suo padre e il suo infortunio, debuttò sugli schermi televisivi con la serie Fiertina Lar. Nel 1999 debuttò nel teatro con la commedia Femi Pasa con Agi e l'anno successivo, nel 2000, ha deciso di dedicarsi completamente alla recitazione. Nel 2005 ebbe la sua prima esperienza cinematografica di rilievo. Sfortunatamente nel 2014 la madre di Kerem Alisic è deceduta a causa di un infarto. Questo periodo è stato, come comprensibile, molto difficile per lui poiché era molto legato a sua madre, che considerava la sua maestra di vita e migliore amica. In un'intervista successiva Kerem ha ricordato il consiglio più importante che gli ha dato sua madre. La filosofia cioè di fare tutto con il cuore e l'anima, indipendentemente da quanto ci si sforzi o da quanto si sia responsabili, non è utile se non si ha la coscienza del proprio lavoro, del proprio talento. E possiamo dire anche che questa sua filosofia la rivediamo anche nel personaggio di Fecheli. Per onorare i suoi genitori Kerem ha deciso di cambiare il nome del teatro fondato dalla madre combinando i loro nomi. Un gesto sicuramente molto dolce e di profonda riconoscenza nei confronti dei genitori. Kerem Malisic ha lavorato in più di 24 serie televisive e in oltre 17 film, non solo come attore ma anche come registra e produttore. Ha vinto addirittura sei premi, tre dei quali come miglior attore televisivo e tre come miglior attore di teatro. Uno dei progetti che lo ha reso famoso in tutto il mondo è stata la serie televisiva Kara Sevda, conosciuta anche come Endless Love, vincitrice addirittura di un Emmy internazionale nel 2017, nella quale ha recitato dal 2015 al 2017 interpretando il personaggio di Kemal. Ha condiviso il set con grandissimi attori come Burak Ozcivit, Hande Ercel e Khan Urgancioglu. Recentemente ha raggiunto il successo con la serie turca Bir Zamanlar Cukurova, cioè Terra Mara o Terra Marga in spagnolo, nella quale interpreta il personaggio di Fekeli. La storia, come sappiamo bene, parla di un amore leggendario che ha avuto inizio a Istanbul negli anni 70 e continua nella regione di Cukurova. Kerem Alizic ha annunciato il suo addio al personaggio di Fekeli attraverso una lettera pubblicata sul suo account Instagram ufficiale nell'ottobre del 2021, proprio nello stile di Fekeli. Alcune voci dicono che Kerem abbia lasciato la serie a causa di alcuni scontri e dissapori avuti con Murat Unalmis, cioè l'attore che interpreta Demir, ma in realtà la cosa più logica da pensare è che il suo personaggio stava ormai perdendo di significato dopo la morte della sua amata Unkar e del suo figlioccio Elmaz. Vi ricordo che queste puntate non le abbiamo ancora viste in Italia, dato che siamo ancora alla seconda stagione, quindi la morte di Unkar e di Ilmaz la vedremo più in là nella terza stagione. Per quanto riguarda invece la sua vita privata, Kerem Alizic si è sposato nel 1988 con l'attrice e modella, cantante turca Sibel turnagol, ma già nel 1992 ha divorziato da lei. Nel 1988 è nato il loro unico figlio, Sadri Alizic. Dopo quasi 20 anni da single, Kerem ha iniziato una relazione mediatica nel 2010 con l'attrice Giulie Deates, che ha 19 anni meno di lui. La loro relazione è stata oggetto di molte critiche e pressioni sociali, infatti la società esercitò una pressione mediatica importante, tanto che dopo otto anni di relazione nel 2018 terminò la sua storia. Durante la sua partecipazione alla serie turca Terramara si relazionò con la sua collega Ilala Altimbilek, Zuleya, e secondo i media turchi gli attori avevano trascorso insieme la quarantena all'inizio della pandemia. Dopo questa notizia i media turchi hanno iniziato ad ipotizzare di una possibile relazione tra i due, ma in realtà gli stessi attori hanno dichiarato i suoi loro profili social che sono semplicemente amici e che hanno instaurato semplicemente un ottimo rapporto sia dentro che fuori dal set. Quindi le voci di corridoio che li vedevano insieme sono state smentite direttamente da loro due. Ultime curiosità su Terram, possiamo dire che ha pubblicato due o tre album di poesie, inoltre in un'intervista ha dichiarato di praticare sport ogni giorno e che non consuma sigarette o alcolici e che è anche un amante dei cani. Del teatro, come ben sappiamo, e gli piace leggere i libri nel tempo libero. Insomma, lui sogna una vita tranquilla e pacifica. Per caso conoscete qualche informazione che non vi abbiamo detto su Terram, vi preghiamo di condividerlo con noi nei commenti. Spero che il video ti sia piaciuto e se non l'avete ancora fatto non dimenticatevi di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornato sulle ultime notizie dei vostri attori preferiti e soprattutto la serie turca preferita del momento. Ciao, alla prossima!